Ciao a tutti bentornati su fanat go go reloaded dopo tanto tempo ecco un video completamente musicale come avevo annunciato già sul video in cui parlavo di tiktok ho un progetto di fare delle tracce tipo epiche diciamo per questo progetto di serie di video stile teletacquino questo è un esperimento che non so se metteremo insieme a questi video faremo come colonna sonora ma non lo so dobbiamo decidere intanto è questa una prima traccia l'ho intitolata epic dance perché ha voluto fondere i suoni diciamo orchestrali con cose tipicamente dance per cui è venuta fuori questa cosa questa traccia che vabbè me la faccio ascoltare faccio prima grazie alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti